Ciao Samuele, ti va di dirci il perché hai deciso di portare le vacche in fiera? Ho deciso di portare le vacche in fiera perché penso che sia un'occasione mostrare alla gente la nostra passione e gli animali, far vedere che esiste il benessere e che vogliamo bene gli animali perché comunque questa è una vetrina che è qua davanti a tutta Italia e quindi gli animali sono qui da vedere e la nostra passione è davanti a tutti e possiamo mostrare quanto vogliamo bene gli animali e quanto teniamo al loro benessere. E come vedi il futuro in ambito di allevamento? Io penso che il futuro finché ci sono giovani che hanno voglia di fare fiere e finché c'è gente che ha voglia di voler bene gli animali e far vedere al mondo che l'allevamento esiste e che non è quello che viene fatto vedere su internet, penso che questo sia il futuro, penso che gli animali devono essere mostrati e fatti vedere a tutti. Grazie mille, gentilissimo. Grazie mille, gentilissimo.